Musica Ragazzi e ragazze rieccomi tornati in un nuovo video dove come al solito dovrete commentare il video Scegliendo i 4 giochi soliti che vorrete vedere live, partecipate alla live, commentate in tanti questo video Condividete il video appunto per poterci aiutare a salire gli iscritti E niente, questo è quanto ragazzi, sapete già quello che dovete fare, voglio vedere tanti commenti Un saluto, alla prossima, ciao! Grazie per la visione!